qualcuno ha mai giocato a The Gateway fortunato che non ce l'ho non ce l'ho la copia io non sono mai riuscito a superare il tutorial quindi è tipo il garage di Driver a Driver l'ho superato il garage in The Gateway il primo inseguimento non sono mai riuscito a farlo io l'ho giocato io l'ho giocato finito tutte e due tutti e due io l'ho abbandonato lì con il primo inseguimento vabbè che era un periodo che stavo già possedevo Xbox 360 quindi ero già passato alla generazione successiva quindi mi ero comprato Gateway per la vecchia console per PS2 però diciamo non riuscivo a fare il primo livello l'ho abbandonato così tristemente chissà se il primo o più lo recupero tanto ce l'ho con l'adattatore HDMI ma guarda ti dirò non è che tutto sto grand che è The Gateway però ripensandoci a priori un po' tipo come si chiama quell'altro gioco di Saboteur che era figo ma invece è malissimo si porca miseria è arrivato quel maledetto di Farence che l'ha solamente fatto conoscere per le parolacce come lo diporo però è vero in effetti era molto maleducato quel gioco là ora che ci penso il protagonista dice Christian dice la prima console che ho toccato è stata PlayStation 2 che all'epoca era già vecchia e beh era sì vabbè vabbè ci sta io la prima console che ho toccato è stato il NES dopo il Commodore 64 che era già vecchio cioè lo SNES infatti infatti il buon Christian ha aperto una cosa che volevamo toccare stasera o sbaglio lo facciamo? o non lo facciamo? adesso così a buffo e quanto dura la playlist? ce la facciamo? se no la lasciamo per la prossima volta vabbè ma in teoria se siamo veloci veloci facciamo un momento dai facciamolo al volo e qui andiamo tutti a mano è arrivato un momento nostalgia è arrivato un momento nostalgia io dico solo io dico solo a Vish per la nostalgia delle saragiochi effettivamente ti racconto un aneddoto veloce io quando ero ragazzino io ero fan dei giochi SNK per lo più King of Fighters quindi 94 98 i migliori praticamente avevo la sfiga avevo la sfiga che quel King of Fighters o conteneva roba illegale oppure in alcuni posti diventava un videopoker illegale quindi praticamente io mi trovavo magari in situazioni brutte stavo giocando la mia partita King of Fighters con il mio bel caro Yori Yagami e praticamente c'avevo la gente dietro che o si doveva fare quello che doveva fare o doveva giocare al videopoker quindi tu immagina con che pressione giocavo le mie partite a King of Fighters ecco perché sono diventato bravissimo Yori Yagami le sue memorie le combo le mosse lo so finire velocissimo il 94 e poi chiudevano le attività sempre per quel motivo tra videopoker o altro roba spaccio eccetera ah Bon Cristian dice primo gioco che ho giocato invece è stato Crash King dice il suo bravo allora aspettiamo aspettiamo introduciamo il discorso grazie Cristian ecco il discorso il discorso è ragazzi dite in chat qual è stato il vostro primo videogioco che avete giocato quello che è proprio di infanzia che vi ha avvicinato al videogioco ditecelo in chat che noi intanto invece vi facciamo vedere i nostri titoli dell'infanzia vai ecco quel primo questo è mio allora questo è stato il primo gioco che ho giocato su Playstation 1 un gioco della Disney poche parole Hercules era bellissimo ancora oggi lo reputo un bellissimo gioco un bel platform mi divertiva tantissimo era animato benissimo era divertentissimo aveva le musiche delle musiche del film tutto era fatto bene quando la Disney ancora faceva delle cose interessanti poi vedete c'era questo boss che mi faceva un po' impazzire e vi racconto un aneddoto stupido di quando uno è piccolo va alle cose sciocche io a volte quando c'erano delle parti difficili mi mettevo a fare una specie di danza sperando che mi portava a fortuna perché sai quando uno è piccolo in realtà era più mio fratello maggiore che mi spingeva a fare avevi un po' di doc di disturbo ossessivo compulsivo no era mio fratello che ti dice il mio fratello mi faceva in realtà questo tibulizzava quando sei fratelli maggiori quando uno è piccolino fai questa danza che supero il livello in realtà poi l'ha superato il livello comunque quindi però si è stato un gioco importante Hercules è un bellissimo gioco doppiato da Giancarlo Magalli anche nel videogioco si c'era c'era Magalli i doppiaggi i doppiaggi erano tutti originali del cartone Disney avevano doppiato anche il videogioco cioè c'erano dei dialoghi adatti al videogioco c'era Magalli allora Magalli c'era non penso erano degli spezzoni presi dal film adesso non riuscire a combaciare allora c'erano di spezzoni presi dal film che servivano a collegare i vari livelli quindi c'era la parte in cui andavi al boss del ciclope c'era la parte in cui lo combatteva col ciclope e poi c'erano dei pezzi in cui c'era filottete con la voce di Magalli che diceva non mai era 76 ragazzo mirare una cosa così è stato il mio gioco uno dei giochi della mia un minuto cosa commentiamo il Geoff Empire io sono più per il 2 io sono per il 2 io sono figlio del 2 no io ho iniziato col primo cioè io praticamente a 8 o 9 anni già giocavo a Geoff Empire perché evidentemente andavo dal mio zio che c'era un sacco di giochi gli altri li nomineremo prossimamente ma tra questi c'era a Geoff Empire quindi tu immagini un ragazzino di 8 anni a giocare Age of Empire non capisco quasi un cavolo ma mi ci divertivo da matti all'epoca io ho giocato Warcraft 3 cioè Warcraft 2 c'era pure Warcraft 3 mi zio me l'hai ricordato adesso io il 2 io il 2 ho giocato 8 anni il 3 ero già più maturo col 3 ero già più maturo l'1 il 2 ero proprio piccolino capisco cazzo eppure lo giocavo questa era la rimasta sì 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 bravo mi ricordava pure Warcraft perché mi zio giocava un botto all'epoca vai Andre che tanto questo era tu sì pure questo era mio io che dire questo è stato come per te mia zia aveva Geof Empires sul computer e io il mio primo gioco su computer è stato Geof Empires ah tu primo proprio su pc penso in realtà non è stato proprio il primissimo è stato uno dei primi il primo sto cercando di ricordarmi ma non beh comunque sì io proprio questo qua mi faceva impazzire soprattutto mi faceva impazzire il prete che faceva sempre il prete era una cosa che ti divertivi proprio a mandarlo in giro a le varie ritai e cose insomma è tanto bello sto gioco qua ah vedi un minuto che bravo vai vai prossimo prossimo e vabbè qui la storia e vabbè questa è la storia questo è sempre mia zia mia zia è una grande giocatrice di avventure grafica dovete sapere questo e lei aveva Monkey Island stranamente vi dico questo io l'avevo giocato che avevo sei anni forse all'epoca sì e quindi io non sapevo ancora leggere benissimo quindi a volte mi inventavo pure i dialoghi pensate un po' sì e quindi praticamente infatti io lo seguivo perché mia zia mi dava le soluzioni quindi io praticamente sto giocolo ho finito con le soluzioni io questo anche io posso dire averlo giocato più o meno a otto anni però io non l'ho giocato in prima persona ma stavo dietro mia cugina io vedo mia cugina e con mia cugina gli davo i consigli unisci quella cosa con quello fai quello vai là quindi io la mia avventura con Monkey Island non l'ho mai giocato Monkey Island l'ho visto giocare tutti e tre in verità vabbè però giocati da mia cugina questa è mia cugina tu l'azia ma la mia cugina pensate e quindi col me questo è stato diciamo il gioco del cuore che poi mi sono portato per tutta la vita possiamo dire così perché poi Monkey Island praticamente l'ho giocati tutti è bello cioè questo è il cuore per me infatti quando ho giocato Return per me è stata poi quello che mi ha praticamente distrutto tutto ma vabbè questa è un'altra storia perché Ron Gilbert è un bastardo vai via prossimo prossimo basta non soffriamo di chi è Medieval è di no vabbè Medieval che cosa vi devo dire è un videogioco che questo è già forse è stato uno dei miei primi giochi su Playstation 1 non è stato Crash Bandicoot in realtà che tutti dicono Crash Bandicoot Crash Bandicoot no per me è stato Medieval quindi ero già un bambino per farvi capire che bambino strano ero e mi piace mi piace ancora perché c'aveva tutte queste cose cupe strane cose che purtroppo con Remastered ci sono perse era molto cioè cavalcava molto Network Before Christmas quella la roba per noi bambini di quel periodo effettivamente sì sì era bellissimo comunque sì ho giocato il remake non mi ha entusiasmato molto la graficamente non mi ha entusiasmato poi vabbè su Remake ci sia tanto da dire ma non mi soffermo comunque sì era bellissimo questo gioco qua questo altro sempre mio questo è stato forse il mio terzo gioco l'ho portato live l'ho portato il primo questo è il secondo questo gioco è enorme praticamente per l'epoca aveva tutto era un mezzo GDR era un'avventura grafica c'era di tutto praticamente poi come vi comportavate con i personaggi questi si ricordavano vi venivano a menare se li menavate questi vi venavano era oro oggi è un gioco questo genere queste meccaniche è oro questo sarebbe tipo un Souls-like tecnicamente o un Metroidvania come lo definiremmo un Souls-like no vabbè sì era tosto era tosto però cazzo che roba infatti sono curioso del Remake Remastered vediamo il prossimo che c'è questa è roba mia questo è un gioco del Commodore 64 Mean Streak o Road Killer o Motoscontri per le cassette del Commodore 64 che erano piratate vendute in edicola legalmente il gioco è semplicemente questo che tu interpreti una moto questa moto nera devi scansare gli ostacoli devi sparare i nemici che arrivano sì e se ci sono le trappole ci sono cioè è tutto questo il gioco questo è un gioco del Commodore 64 che io ci ho perso all'età di otto anni ci ho perso veramente le ore ho imparato a tutti i livelli ho imparato non era easy ma sto tizio non fa il gameplay ma andavanti scusa Luca andavanti questa è la demo eh questo è il gameplay eccolo che praticamente c'erano le macchie che ti facevano sbandare poi c'era il muro e tu sparavi dovevi spanzare quel gioco di moto uscito su Playstation dove tu usciti la mazza e colpivi il tizio con la moto a fianco quella è Road Rush quella è un altro gioco che ho spazzato no 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 questo è proprio questo gameplay l'abbiamo visto in My Friends Pedro negli ultimi livelli c'è un gameplay simile con la moto lui sì sì l'hanno copiato pari pari infatti io My Friends Pedro lo adoro anche per questo aver riproposto questo gioco che per me è assurdo che tipo oggi nessuno veramente da anni che sto pensando di farlo io questo gioco perché cazzo la fai con la grafica moderna non è che sia così difficile riproporlo ci saranno solo gli sprite che io non so fare però lo saprei di fare pari pari li copierei anche i livelli tanto ormai non penso che mi possono danneggiare per copyright sì ormai degli anni 80 questo titolo andiamo sotto col prossimo vai vai questo invece è un titolo che non conosce nessuno un platformer che si chiama Titanic Blinky sempre per Commodore lo sviluppatore il tuo sviluppatore è Zeppelin qualcosa mando avanti così descrivo il gameplay praticamente stai su una nave da crociera e il tuo scopo è ripulire questa nave da crociera da tutti i nemici ed è un platform è bello carino questo è un gioco per Commodore 64 quindi pochi kilobytes pochi kilobytes di memoria cioè immagina c'è la grafica fatta ora è un gioco del genere così colorato complesso cioè roba che se ne vanno minimo 500 mega per un gioco da gemici in pochi kilowatt e c'ha veramente tanti livelli sono veramente è una nave da crociera quindi per l'appunto per lungo è in verticale il gioco si muove il platformer e tu devi ripulire l'aria di tutti i nemici e devi risolvere anche dei puzzle ambientali però non l'ho mai finito in vita mia tuttora non so come finisce sto gioco primo quello che devo giocare lo devo finire non si finisce non è difficile però da bambino era solo professione di principio sì da bambino era difficilissimo però guardate cioè l'estetica cioè per chi ha giocato Commodore 64 come il gioco di prima sapere che questo è un gioco del Commodore 64 è una grafica spacca mascella per l'epoca vai puoi andare avanti questo è un altro che ho nerdato un bordello nel periodo del NES nel mio possedere il NES si chiama Battle City il gioco è semplicemente tutto qua cararmati che devi sparare gli altri cararmati però devi difendere di Namco perché io all'epoca giocavo solo giochi Namco e Konami sul NES praticamente non dovete far attaccare quella quell'aquila che vedete non dovete farla sparare da questi nemici qui i muri sono distruttibili quindi c'è totalmente distruttibilità totale sembra stupido come gioco ma poi a altri livelli diventa veramente difficile questo titolo Battle City ad oggi sono bravissimo a giocarlo questo l'ho memorizzato tutto lo finisco veramente in pochi minuti però mi ha fatto passare un sacco del tempo questo è bellissimo se mi sa che se lo ricordo è che ha scritto Madò sì questo è un gioco comunque abbastanza un must su su Nintendo sul NES cioè lui ha detto l'ha giocato ma non sul NES l'avrà giocato su qualche Famiclone perché questo è un gioco base che stava nei Famiclone c'è l'izzini in questo gioco lo vedo citato spesso c'è un livello simile in Rod 96 sai? sì è vero può essere insieme pure Barbara se lo ricorda a te questo è tutto che l'hanno giocato questo è praticamente è presente le console 800 giochi in uno c'è sempre una versione indovina chi non ha la più pallida idea di cosa sia questo gioco io io eh siamo in due proteggere l'Aquila l'ha detto giusto adesso andiamo sotto con il prossimo dai il prossimo è il mio must questo lo conosco anche io però non l'ho immaginato questo è il primo videogioco che ho finito in vita mia all'età di 8 anni senza il Konami Code non ditemi come ho fatto ci ho perso tipo 3 mesi o 4 mesi dalla mia vita per imparare tutta memoria cioè immaginate un bambino di 8 anni come me che giocava a questo gioco che si è intestardito io mi ricordo che ero arrivato all'ultimo livello che è quello dell'Alien finale praticamente io avevo messo in pausa il gioco la sera prima ero andato a dormire avevo lasciato il gioco in pausa per finirlo perché non ce la facevo più ero stanco morto erano tipo un bambino di 8 anni che di nascosto era rimasto sveglio fino a mezzanotte non mi ricordo quindi poi andai a dormire di nascosto lasciai così il gioco che poi all'epoca il nintendo vi ricordate era con l'antenna quindi era una cosa veramente a rischio che si spegneva da un momento all'altro quindi mi sono fatto anche il segno della croce che nessuno avesse toccato il tasto reset e poi l'ho finito quel giorno mi ricordo che l'ho finito questo ricordiamo che è un classico gioco tipo Palward che è una truffa cioè praticamente hanno preso Schwarzenegger Sylvester Stallone e l'hanno messo a sparare gli alieni di Alien quindi il xenomorph cioè la bellezza dell'epoca l'ignoranza andava di moda quella roba di film hanno fatto sto gioco per lucrare su quei film che andavano di moda mancava giusto il Predator che usciva questo è un altro di quei giochi che so a memoria lo so finire a memoria anche se ora l'ho rigiocato ve lo dico ho usato il Konami Code e ho fatto game over però molte cose me le ricordo a memoria tipo qua che devi stare abbassato questo qua sta facendo lo sborone va giocato così con lo spread sempre quell'arma è OP lo spread cioè non puoi perderlo se lo perdi non puoi più giocarci a questo gioco ma per me puoi andare al prossimo ok prop contro e questo è stato il mio questo è stato il mio primo gioco quando mi hanno regalato PlayStation 1 nel 95 96 sempre all'età cioè io praticamente sono passato direttamente all'età di 7-8 anni dal NES a PlayStation 1 ho saltato una generazione e mi hanno regalato PS1 all'epoca che era proprio l'anno di PS1 al lancio che costava tipo mi ricordo 600.000 lire alla comunione me l'hanno regalata e mio cugino che faceva quello che faceva le copie di backup come si dice mi ha messo il ramamezzo in bundle perché all'epoca vendevano le console come oggi del resto era senza bundle non c'era il backup sì era senza bundle la console che mi aveva regalato quindi lui mi ha infilato il ramamezzo quindi io praticamente per tanto tempo PS1 acquistato al demo 1 ho giocato solo alla demo 1 dell'epoca quella originale la demo 1.0 diciamo quello del lancio della console la demo 1 con ramamezzo non so se riesce ad andare avanti vi faccio vedere il gameplay che è veramente usceno tecnicamente non ne conosco mezzo di questi giochi vai tranquillo non sei da solo ma nemmeno io non ti preoccupare nemmeno io ho mai giocato questo era praticamente che ci fosse un gioco di ramma per chi si ricorda l'anime ramma c'era questa storia che praticamente se questi bagnavano con l'acqua fredda diventavano un'altra cosa quindi tu praticamente tra poco ci sarà il remake pubblicato da netflix quindi non potrei non vedere dell'anime ramamezzo ah ottimo prepariamoci allo scempio perché come fanno il vecchio che va a vedere le mutandine delle bambine sono fedeli ma perché lo spieghi così male ramma non è che lui è pervertito ma ram ram lam c'è pure il remake di lam che è abbastanza poi c'erano questi dialoghi era bello sto gioco c'erano questi dialoghi botte risposta all'inizio che comunque era strano all'epoca cioè prima c'erano solo i dialoghi giusto un po' scritti invece questi proprio parlano prima del combattimento stile mortal combat essenzialmente ecco da chi ha copiato kojima andiamo avanti ecco che il gioco meritava e qui c'è io e il nonno abbiamo scelto la demo one se avete giocato ad astrobot e avete visto questo t-rex deriva da qui esatto vedete i tasti ogni tasto fa un'operazione diversa muove la testa fai parlare il t-rex fai vedere il t-rex dai eccolo questa era una tech demo presa nella console quindi io nella mia prima playstation 1 quando ho comprato ps1 i tempi di avvio e ci lamentiamo di oggi i tempi di avvio di questa cosa incredibile eccolo qua e vi rendete conto che questo era il non plus ultra il t-rex poi era l'epoca in cui c'era Jurassic Park quindi tutti fissati con i titan con questi cazzoni dinotauri infatti era il non plus ultra praticamente questa bocca tu l'aprivi coi tasti infatti io passavo il tempo a doppiarlo a fare ciao ragazzi come state dove stai Giuseppe tutto bene passavo il tempo a farlo parlare praticamente comunque un deficiente da bambino e ovviamente muovevo muovevo ho indagato più volte sul sesso di questo t-rex perché puoi spostarlo come vuoi e guardarlo da tutte le angolazioni quindi ho cercato di indagare più volte ma non ho mai scoperto il sesso del t-rex penso sia femmina di solito a me non giuro si parca perché va incazzata comunque poteva anche sorridere buonanotte carmine ciao carmine tanto tanto siamo poi recuperiamo i vostri giochi eh comunque manta tech demo mi sa che è parente a quella di prima non so per sì sì questa è la seconda che stava nella demo 1 praticamente pure questo parlava la manta se gli facevi aprire la bocca lo facevi parlare questo lo parlavo con la voce più effemminata nel mio ma perché le mante hanno le bocche da quando è qua? non lo so qui avevo la bocca infatti sì le hanno le bocche ma sono talmente piccole che comunque eh no ma ce l'avevi se avvicinavi faceva pop pop c'è la bocca e questa è roba di Luca eh questa è roba di tua Luca eh io praticamente questo qui c'era sempre mio zio ma era in spagnolo quindi c'era Abe che faceva holà holà no che brutto in spagnolo giuro questo qua aveva la particolarità infatti che era italiano era praticamente l'espansione del primo capitolo con più livelli ed era abbastardissimo e voglio buona scuola Cristian buona scuola e grazie per averci scoperto spero di guardarci tornoci a guardare quando facciamo qualche live ah poi c'è Mortal Kombat sì che abbiamo messo tutto il pomeriggio a capire se io avevo giocato al 3 o a qualcun altro invece lui abbiamo scoperto che tu giocavi al Trilogy dove Trilogy ci sono praticamente tutti i ninja e tutte le donne con tutte le palette di colori possibili sì purtroppo è uno di quei giochi oddio sì me lo ricordo perché non l'ho più visto i video adesso Mortal Kombat esatto quindi quando ho visto quella schema del prima sì 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 vedo come questo poi c'avevo la grafica migliore il Trilogy proprio era quello avanzatissimo sì peccato che ricordo pochissimo però è stato uno di insieme ad Abe questi quei giochi in league mi hanno proprio caratterizzato notte vicious giocare giochi recenti buonanotte ah no notte a chi va ha detto no notte a chi va quindi non è che va no 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 dai che poi recuperiamo i vostri titoli dai rimanete fino alla fine che recuperiamo i vostri titoli poi ci salutiamo sì che io avevo la sfigata di andare da mio zio a giocare i vari videogiochi perché li aveva tutti lui quindi apparentemente era lo spacciatore di fiducia però gli rubavo il computer per giocare quindi era fighissimo madonna che ricordi mi stanno io mi ricordo che a mio cugino guardavo Resident Evil 2 che è per pc che mi guardavano a me nessuno giocava Resident Evil ma certo se ci sia possibile se volete giocare pure insieme a me farebbe molto piacere ah sì certo tanto ma ci sono giochi crossplay quindi la voglia sì sì anche se c'è PS5 se ci organizziamo anche Mortal Kombat 1 gioca contro Luca che è una pippa astronomica ma perché devi giocare contro io gioca a secondo di te che tu sei più forte oh Tomb Raider sì io giocavo a questo qua quando la gente metteva nel frigorifero il maggiordomo io giocavo a quell'altro che era il primo che però ero talmente piccolo che non superavo mai la fase quella iniziale cioè quella nella grotta dovrebbe essere sì sì ecco sì 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 io lo sto giocando manco io manco io l'ho mai superato io lo sto giocando recentemente ti dico che in effetti giocarlo da bambino è follia cioè questo gioco qua no vabbè più che altro perché poi non avendolo a disposizione sempre quindi io ci giocavo una volta ogni torno ma qui nella versione PC giocavi pure tu di Tomb Raider sì sì io giocavo sempre da bambino su PC di mio zio io giocatore PC proprio doc quindi ve lo ricordo un pochettino mi ricordo infatti la grotta con i pipistrelli e ricordo che quando andavi un po' più avanti c'erano i lupi gli orsi caso io non ho io ho giocato il 2 il 3 il The Last Revelation e mi sono fermato al Chronicles poi no io ho giocato solo a questo e poi sono ricordato della serie quando è uscito il reboot per Playstation 3 quindi ho stampato tutto anche se c'ho Underworld e Legends mi pare però non lo ho giocato perché PC mio non ce la faceva sì io invece sono stato col 3 The Chronicles e Last Revenation sono stati quelli che ho giocato io penso che ho avuto una scheda video così nefasta che è la Radeon 1300 Lati che oltre che faceva schifo in confronto alle altre schede che avevo avuto in precedenza mi hanno regalato Angel of Darkness fate voi che era sviluppato per quella scheda video eccolo sì ve lo ricordo che Lara non aveva non aveva il bel treccione perché non si poteva fare che era troppo pesante per il gioco Wigo cosa c'ha Lara alla testa ce l'ha niente non ha la tre non ha tre Luca Platon Rider Hunter Legends guarda quello dovrei pure averlo o quello o l'Hunderwood non mi ricordo più io li avevo installati ma non li ho mai avviati ce li ho installati proprio ora mi era venuto la voglia un giorno non so mi era venuto quello scribizio di giocarli ma poi no io invece sono andato a recuperare la remastered che me l'hanno messa l'hanno scontata non le sto rigiocando adesso mamma mia sì me la ricordo stelose sono di un tosto ragazzi ma anche per oggi vabbè ma c'è anche un sistema di comandi orribile oggi oggi giocare siamo viziati e basta infatti io ho scoperto che c'è un titolo che io amo che si chiama Urban Chaos lo ripeto sempre che oggi è orribile da giocare ho scoperto che proprio quest'anno hanno fatto la mod che fa tipo remake remastered col codice open source dell'autore partendo dal codice open source rilasciato dall'autore e quindi prima o più devo provare dai andiamo il prossimo questa è la storia di tutti pure per me è stata perché dopo che tu c'hai sangue affiotte con Mortal Kombat e Oddworld dopo che vai in giro per le grotte non capisci niente ovvio è così che dire e all'architettura 800x600 in 1024 mamma mia che ricordo mamma mia sì questo qua mi pare che ce l'aveva una delle mie cugine dal lato di mia madre mi aveva dato il disco quindi quello di backup ovviamente Clapouch Clapouch sì esatto Clapouch si affiotte proprio mettevi in pausa Clapouch un po' di volte boom via di fillone per i giovinastri come Christian Clapouch era il trucco per mettere i soldi gratis che se no non bisogna giocarci a sto gioco adesso è Motherlord ah l'hanno cambiato? sì dall'espansione Outdate diventa Motherlord ah ok che poi o Rosebud no mi sa che Rosebud e poi Motherlord sì che poi io mi ricordo sempre che ogni tanto si svegliava la mia vena sadica quindi quando la cucina andava a fuoco toglievo la lato quello lo faceva un po' tutti e che quindi mi divertiva un po' così sai com'è d'altronde la ma io facevo proprio i tavoli che non potessero scappare e li lasciavo morire bruciati io quello no io quello no perché tanto erano scarsissimi in cucina i miei sims quindi facevano da soli no ma ma io guarda io non l'ho mai fatto no? no no e se lo facevi in una in una in quella casa là dietro quella là dietro quella come si chiama? il villone quella grigia sì il villone lì praticamente tornavano in vita sotto forma di fantasmi perché quella è maledetta quella casa sì sì davvero? se li ammazzavi se li ammazzavi o li facevi suicidare tornavano sotto forma di fantasmi a tormentare gli altri era un easter egg soprattutto se non li seppellivi cioè se praticamente ah no no li dovevi seppellirli perdono dovevi seppellirli perché diventavano le ceneri giusto? mi ricordo che diventavano sì ceneri o urne ceneri diventavano sì sì e praticamente lì c'era il cimitero lì potevi seppellirli diventavano lapide se mettevi l'urna nel terreno diventava lapide praticamente la notte venivano a trovarti i fantasmi però li dovevi ammazzare dovevi averli ammazzati però eh non dovevano essere morti naturalmente dovevano essere lo faceva anche la famiglia alberghini che c'erano i fantasmi la famosa famiglia alberghini con come cacchio si chiama quello all'inizio del gioco che bello col tiziotore è buono volete sapere però qual è il problema da giocarlo oggi è che le le statistiche di fame tutto vanno giù velocemente velocemente no ma è impossibile giocarlo veramente sia per i soldi che per le cose è impossibile questo gioco umanamente da gestire senza i trucchi era però sei una cosa che mi divertì questo gioco le mod le mod quante cazzo di una che mettevi gli oggetti più assurdi poi ovviamente la nude mod che potevi vederli mentre facevano stavano nudi ah c'erano già all'epoca quelle come no come no la nude mod installata e poi tutti gli oggetti qualsiasi oggetto che ti veniva in testa esisteva da mettere dentro questo gioco che funzionavano pure tutti programmati c'era fuori di testa il mod che tanto c'era The Sims pure su Playstation non mi ricordo infatti The Sims 2 non ha preso piede per quel motivo perché questo gioco poi a un certo punto per via delle mod aveva preso un'anima sua cioè non servivano nelle espansioni cioè per me Trinx Arts cominciava a perdere soldi perché con le mod diventavo qualsiasi cosa a questo gioco io mi ricordo c'erano gli animali con le mod mettevi mettevi la scuola c'era c'era di tutto a un certo punto veramente erano diventati bravissimi a programmarlo le Sims però è arrivato The Sims 2 poi Sims 3 poi Sims 4 ormai abbiamo solo le Sims 4 da oggi in poi e ora ci abbiamo in Zoe o Paralypse o Mega Race madonna gioco talmente strano questo che boh mi ricordava quel film come si chiama quello là che c'era Jason Statman che gareggiava con queste macchine The Trace The Trace si mi pare sì quello e praticamente prima giocavo a questo da ragazzino sempre da casa di mio zio quando uscii The Trace mi ricordai subito di questo gioco che era folle tanto folle praticamente c'è stato mostre gare con le macchine carrozzatissime piene di armi dovevi praticamente far fuori gli avversari io non giocavo ma no che bello all'epoca all'epoca però era divertentissimo se mandi avanti c'è il 2 ah c'è anche il 2 si no fai con la freccettina comunque c'è bellissimo all'epoca in anni 90 che c'erano queste cose in full motion video no dopo c'è Mavius che non so di chi sia ah ok è mio però era incredibile poi c'erano queste sequenze pure nel 2 queste qua realizzate con questa tecnologia adesso non mi ricordo come si chiamava AMV mi pare una cosa simile full motion video FMV era stranissimo che poi erano delle tipo immaginette stavo vedendo che si spostano all'epoca il 3D non esisteva no infatti io giocavo al 2 dove c'era il vero 3D questo mamma mia però stava lì lì non è tanto lontano a parte la componente grafica del gameplay lo stile è quello geniale comunque la Kaudi andiamo su Mavus questo è un gioco del 93 che possedeva mio zio vabbè manda avanti manda avanti questo non c'entra niente col gameplay e questo il video è il gioco ecco Claudio Riccoboni aspetta è italiano l'autore di sto gioco scusa story written by Claudio Bagliocchi Robin Rowland Claudio Bagliocchi italianissimo non credo sia quello dei biscotti Barbara mi sta guardando con la faccia in camera ma quelli dei biscotti no sarà una persona che ha lo stesso cognome sì infatti questo titolo era particolare è un titolo shooter di esplorazione tutto in full motion video se mandi avanti cominci a vedere tu prendevi sticker armati e andavi in questo posto stile Jurassic Park dove stanno i dinosauri vai in questi luoghi dove ci sono ancora i dinosauri e devi andare a salvare questo è il briefing sì sì questo è il briefing che ti spiega tutto come funziona quella roba che vedi è l'interfaccia del tuo car armato su immagine è tutto grafica la cosa che vedi solo renderizzata 3D era quella ti parlo che questo girava sui pc con Windows 3.1 oddio quindi proprio inizia anni 90 91 lo posseggo ancora questo titolo è così semplicemente giri stile avventure grafiche però non è un'avventura grafica è uno shooter questo mamma che roba c'è il laser puoi sparare il laser poi c'è il manuale di gioco cioè nel senso è tutto fatto così era tutto particolare se mandi avanti mandi un po' avanti se questo spara vai ecco vai cammini ecco vedi ecco i nemici vedi vedi ma che cavolo questo ha sparato il laser ora vedi metti l'arma e stai pronto a sparare quando arriva il nemico però era 3D cioè nel senso concettualmente tu ti stai spostando puoi tornare indietro ti muovi nella giungla e devi andare alle ricerche io non ho mai capito di cosa perché il briefing era in inglese non capivo una sega quindi nonostante Claudio Baiocchi ma non c'era niente di italiano quindi io andavo a senso io da bambino mi perdevo 93 ero proprio 6 anni 4 anni ero piccolino proprio quindi mi mettevo col mouse non capivo un cacchio sapevo solo che il laser missili sparava e ogni tanto spuntava un dinosauro da sparare appena lo vedevi dovevi essere pronto a sopra c'era tutte le indicazioni vedi sensore praticamente all'auto ti diceva se stavi a vici vedi campi magnetici più diventava rosso più ti avvicinavi alla forma di vita cioè l'obiettivo era usare quei sensori all'auto a destra e capire cioè dove era il nemico da trovare quindi tu devi muoverti più vedi magnetic field stanno aumentando quindi non so cosa significava però io mi ricordo dovevo seguire life form per trovare gli esseri viventi che io non sapevo cos'era life form avevo piccolino però ho capito che la barra quella centrale se diventava rossa trovavo altri nemici comunque era particolare questo gioco che cosa strana guarda all'epoca erano tutti così se ci pensate il primo Elder Scroll era così le meccaniche di gioco erano così ti muovevi questi mondi così oggi è giocabile è una cosa simile ci ho provato con te mi ricordo con chi che ho provato in live con me con me i primi Elder Scroll quello così era o Arena o Arena Arena no era o Arena o Daggerfall non mi ricordo Daggerfall l'ho portato Daggerfall e non sono riuscito a giocarlo non sono riuscito a uscire dal tutorial cazzo si ricordava più come erano i pulsanti di Daggerfall mamma mia eh quello andrebbe rimasterizzato rimaccato è fatto un remake ne voglio erano pure molto più profondi dei giochi attuali Elder Scroll cazzo ci potevi arrampicare ci potevi arrampicare comprarti una casa una barca cioè era tanta roba puoi andare avanti il gioco è tutto questo vai tranquillo che altro c'è ah Megarist ok sì quello che vi parlavo prima che c'è sempre il tizio così con dei video realizzati meglio che è questa qua oh Miss Megarist c'era sta tizia che lo sembra quella sembra quella dell'attrice della tata quella che fa Sissi no non è lei non è lei non le somiglia nemmeno scusa ma che c'è vediamo era uno show mi ricordo qualche ricordo vago ce l'ho era uno show eh sì The Trace il film The Trace per chi non lo sa The Trace è un film degli anni 70 dove tutti hanno copiato vedi che qua c'era il graficone per l'epoca minchia minchia davvero questa roba era sempre su DOS infatti avevo fregato il cd in tempi recenti a mio zio per provarlo a rigiocare ma non mi ricordavo che fosse indosso quindi me lo sono preso in faccia praticamente però era che roba un po' come diciamo è proprio bello questo cosa è proprio bello cazzo meliton facciamolo funzionare tanto starai adesso sta su GOG sta su GOG 80 centesimi oh compriamolo e giochiamolo su GOG avranno gestito il multiplayer non lo so se ce l'ha sai su Ghost Recon l'hanno reso fighissimo veramente ti bypassa i games infatti guarda dopo che hai messo io ci ho merdato la vita soprattutto non online che poi mi sa che è proprio questo quello a cui giocai io si era il primo se tutti i miei di prima erano tutti i giochi che andavo da mizio per giocare questo qua era mio però comunque ero sempre troppo piccolo per capire cosa cavolo stessi facendo quindi andavo a singhiozzi avanti no qui ero già più grandicello io avevo tipo 12 anni qua che c'ho mi pare 10 10 anni infatti io qua nerdavo con l'online nell'online nerdavo un botto io veramente deathmatch a gogo faccio io internet nemmeno ce l'avevo all'epoca c'è sto gioco a pagarlo oggi cioè non c'è un gioco così oggi con queste meccaniche di gioco tu hai detto radio or not forse la cosa si avvicina radio or not è quello che si avvicina di più a rainbow six più che ghost dragon mi sembra che sia ancora unico a conti fatti perché comunque ti buttava in questi scenari particolari con una con delle armi sì ma a parte le armi con una mappa che era ampia comunque nel senso non era un piccolo corrido sì una specie di open world poteva affrontare come volevi sì esatto e ti dava libertà d'approccio assoluto un radio or not invece è sventare un crimine o un attacco di qualcuno no qui praticamente è buttato in un contesto per l'appunto qua ci stanno i ribelli eh sì come la guerra guerra e tu c'hai i personaggi che devi schierare devi dire cosa fare dove fare esatto la mappa è aperta fondamentalmente sì sì è un open world era grandissimo e tu hai la possibilità di scegliere dove andare per prima ma vedi infatti ottimizzare tutti i compagni che c'hai poi dovevi vedere tutti i compagni con le caratteristiche quindi non era che erano sì dovevi scendere i compagni giusti esatto io all'epoca lo giocavo a cazzo di cane sto gioco però era divertentissimo lo stesso no io prendevo due sniper e rifleman e due e gli sniper li mettevo nelle cose in alto e mi aiutavano parecchio perché ti aiutavano a infiltrarti cioè è una figata pazzetta cioè la complessità di sto gioco infatti è un peccato che non l'abbiano più fatti così cioè i costeregon di adesso tecnicamente si presterebbero a questo ma solo sui giochi in quattro e seriamente perché e li devi giocare con gli amici cioè non è più invece qua l'IA faceva tutto c'era bellissimo funzionava benissimo e guarda non è che l'IA poi diventava più scema perché gli advanced warfighter c'era l'IA che funzionava da dio se tu gli dicevi di coprire un ruolo cito quello perché quello l'ho giocato più seriamente ma l'IA funzionava da dio cioè si dicevi di coprire una zona l'IA si fermava lì e si l'Advanced Warfighter è il vero reboot cioè quello che prende pari pari è ancora questo diciamo quasi sì perché già più piccole le mappe la cominciano a essere sì sì era un più piccino era un po' più concentrato diciamo però era fego mi ricordo che a me mi rompevano il cazzo che non si vedeva il fucile mandate a fanculo voi i COD di merda quello ci sta mi rompevano il cazzo nel 2001 mi rompevano il cazzo gioco a COD a Butterfield vabbè ma quando non c'era ancora nel 2001 c'era già nel 2001 COD mi sa di se o 2002 sarà uscito comunque esistevano erano i giochi erano Runway 6 Ghost Recon COD Battlefield Speck of Honor se non sbaglio dovrebbe essere in modo intorno sì in Medal of Honor sì c'era anche Speck of che altro il primo Call of Duty il primo Call of Duty è 2003 ah ok però mi ricordo che erano tutti Aiden e Dangerous c'era anche Aiden e Dangerous che anche lì io ci ho nerdato la vita e io su questo su Rainbow Six Rogue Spear ce l'ho giocato parecchio infatti questo era bello che ti mettevi c'era quella mappa con la bussolina solo poi l'add era inesistente che bellissimo io adoro quando non ti dicevano niente tu c'era solo la mappa del briefing e questa bussolina sotto e basta cioè non c'avevi nient'altro nell'add poi praticamente se ti sparavano al piede zoppicava il personaggio esatto sì sì c'era queste meccaniche per da paura ed eri one shot one kill cioè se ti sparano in testo al petto eri morto sì infatti dovevi era molto stealth vedi questo qua molto non so se riesce a fare più avanti comunque era tutto lento era come un gioco di guerra vero tipo arma forse più vicino ad arma sì sì un'arma proprio leggero diciamo sì sì più semplice questo era l'ultimo sì sì e poi c'è l'evoluzione dei Ghost Recon tanta roba un raccrimuccio eh sì soprattutto perché è morto come franchise dai leggiamo un po' di commenti ecco vediamo un po' partiamo dall'inizio li leggo un po' io ho iniziato prestissimo a giocare si può dire che ci sono proprio nato praticamente avevo il NES pesante pensate quindi i primi giochi sono stati quelli basic del NES e poi sono passati ah pure pure Carmi come me ha fatto un salto di generazione si è saltata dello SNES ha fatto NES che poi effettivamente non aveva senso lo SNES cioè era tipo il 94 l'anno dopo è uscito PlayStation cioè non ha avuto il tempo lo SNES di anche se lì io andavo ci ho giocato Final Fantasy 6 che poi non mi ricordo ma mi faccio sempre confusione tra il 3 e il 6 perché noi ci avevamo mi ricordo che era sbagliato cioè tipo noi in Europa il 3 è il 6 è il 6 era così il Final Fantasy 3 era considerato il 3 ma era il 6 ma che d'accordo era il 3 sì 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 quello con i robottoni cioè il 6 praticamente quello con Kefka sì quello con Kefka noi era il Final Fantasy 3 in Europa ma dai quindi sì sì noi europei su SNES l'avevamo come il 3 infatti io faccio sempre confusione per colpa di sta cosa che io l'ho giocato come 3 quindi ho sempre questo vuoto tu ricorda il Final Fantasy 2D il 6 e lo so però tipo c'ho sempre questo dubbio che mi sto sbagliando ho capito tra il 3 e 4 e 6 perché erano fatto tipo un casino di nomencatura anche i videogames nerd l'ha spiegato bene il casino quindi io ho giocato il 3 tecnicamente che era il 6 su SNES l'amico mio andavo a giocare un sacco di giochi un picchiaduro che non mi ricordo come si chiamava e Killer Instinct ovviamente ho nerdato poi c'è King che scrive non ricordo bene quale fu il primo ricordo fosse il gioco della famiglia adams su SNES madonna mia che brutto il gioco di suoni il NES no su NES o su NES SNES ha detto SNES SNES ah mi sa che forse non è quello della famiglia adams brutto di suoni pubblicato pubblicato da su che suoni Rayman 3 Harry Potter la camera dei segreti e Atlantis ma il classicone di quel periodo i gioconi di PS1 ma Atlantis è l'avventura grafica? eh no Atlantis era un platform era un platform per PS1 era Atlantis ah ok ok perché c'era anche un'avventura grafica dell'epoca che si chiamava no ma Atlantis si io ce l'ho praticamente Atlantis era io ce l'avevo sia Atlantis che che Virus si chiamavano due avventure grafiche che ero avuto il regalo con le scarpe non mi ricordo con le scarpe si delle scarpe uno dell'Atlanta e forse Atlantis con la scarpa dell'Atlanta era l'Atlanta la marca e l'altro con le scarpe della fila Virus madonna mia erano due avventure grafiche si si ho capito qual è dovrei averle ancora avuto da qualche parte sempre della Crio erano mi pare sempre della Crio mi pare si si quella proprio si entrambe si si entrambe credo la Crio prima di scendere giù c'era Christian che diceva infatti il suo primo gioco era stato Crash Bandicoot e Vicious aveva detto che era un gioco di calcio per l'Intellivision della Mattel madonna mia e poi un po' anche per Atari Xe e Vicious che alla fine dice madonna mia che giochi Vicious allora andando a memoria i tre videogame che ho giocato sono Soccer per Intellivision Akon per Atari Xe Bug Hunt sempre per Atari Xe da giocare con la pistola ma sono proprio i primissimi avevo tipo 3-4 anni per curiosità voglio vederli dai Luca cerca il volo Soccer aspetta si riesce al volo Soccer sono curioso di vederli e poi ce ne andiamo a Nanno si si oh mio dio madonna le 79 mamma mia mettiamolo qui chissà se Cyrus li ha giocati oddio può essere passi che Cyrus era uno di quelli che ha creato prima Pong probabile eccolo qua questo era Soccer per Intellivision se non sbaglio madonna cioè era così se adesso vediamo FIFA o PES ci lamentiamo dei 60 FPS che non tengono i giochi le cose eppure ha il suo perché questa grafica non è brutta sì ma sembra pure più solido di Soccer di Ness no ma tra me quello che aspetta ogni tanto è pensare a quanto si sono evoluti i giochi partendo da questo e arrivando al corrispettivo attuale no sì sì ma infatti ma pure in pochi anni ma poi questo qua questo titolo addirittura era più tecnicamente prestante in confronto al Soccer dell'Ness cioè Soccer del Ness erano 5 giocatori versus 5 è piccolissimo il campo questo è gigante forse io per quello ho questa mentalità un po' strana cioè la grafica è peggiore ovviamente perché l'intellivision è più scarsa del Ness però è un gameplay più complesso sembrava Vicious scrivessi aveva un intellivision a casa nonostante fossimo nei 90 eccolo colicino invece voglio vedere Archon e Bagand sono curioso la Tariq Seppure la Tariq Seppure non l'ho mai la Tariq Seppure mi manca i parco titoli cioè tipo questi titoli per me sono oh mamma mia poi la Tariq Seppure non mi ricordo era una roba che girava in Italia parecchio che poi non so che cos'era Fossil corrispettivo era tipo era tipo un computer era tipo tipo il Commodore 64 che si comprava i figli per dire eh così può studiare però era il corrispettivo del 720 non mi ricordo che giochi ci giravano di che Atari giravano dovrebbe essere questo questa è roba quasi tipo Dama che cos'è non lo so dovrebbe essere questo forse è un RTS probabilmente è un RTS sì sì dovrebbe essere uno strategico costruito proprio su gli scacchi o la dama se ci pensi infatti c'è la cosa scacchia no ma non è non è la scacchia semplicemente quelle saranno delle montagne delle cose vedi lo scenario ma che cavolo mi stai dicendo sai che figata io dico sti titoli qua li vorrei essere rifati io infatti prima o poi mi metterò imparerò a fare veloci giochi 2D io rubo guarda questo è valido questo è divertentissimo era gli albori alcuni giochi attuali potremmo dire perché sembra uno strategico a turni nel momento in cui le due parti entrano in combattimento tu devi gestire la tua vita sembra un total war diciamo un gioco simile sì sì infatti lo dice Vizius Arcon era ma che cacchio è una fighissima degli scacchi dove ti battivi con i pedoni pensate ah vedi quindi ci avete preso voi eh te l'ho detto sembrava una scacchiera cioè vedi la bellezza dell'epoca cioè ci vorrebbe solo un minimo di questi titoli rifatti ma anche inventare rifatti con la grafica moderna tu immagini con una grafica cartunesca la caped con uno stile grafico cazzo che figata esce fuori io mi sto ce lo vorrei giocare sta roba tanto per la grafica che figlio del tempo che roba guarda che inventiva con pochi pixel ma Gant era tipo il mio Titanic Blinky che aveva la grafica spacca mascelle per dove girava mi sta dicendo allora vi mostro poi Bac Gant così li abbiamo messi tutti e tre ci scusiamo con gli altri della chat ma vabbè questi sono giochi che non nessuno di noi conosceva quindi ci siamo intrigati è proprio ci ha titinnato la nostra curiosità sì se no avessimo se avessimo tempo avessimo mostrato anche quelli degli altri ah quel giochi con la pistola sì quello di cui parlavo prima sì sì effettivamente questo qua per la immaginando quello che abbiamo visto prima era una grafica spacca mascelle sì praticamente sì vabbè per l'epoca sono molto dettagliati con Nintendo Wii e Wii U questi qua ci stanno cioè diciamo si è evoluto lì il concetto della pistola che interagiva con il gioco ma di che ma non scusarti anzi è interessante vedere come i giochi dell'epoca si siano evoluti in altro però appunto quello strategico sulla scacchiera oggi potremmo ritrovarlo in un Total War o robe così sì e ti rendi conto noi ci sentiamo vecchi perché giochiamo a quei giochi lì in confronto qua siamo dei pupi a vedere sta roba ne voglio e dobbiamo ringraziare anche alla gente che ha giocato sta roba se roba si è questo in un certo senso potremmo dire anche che è molto più recente oggi ah mediocre addirittura quel tizio che è beccato ha fatto pure la recensione ha avuto il coraggio pensate interessante sì molto interessante anche perché comunque i giochi che abbiamo giocato di Giuseppe ad esempio oggi si sono trasformati negli fps cooperativi del cavolo quindi sì diciamo non c'è tanta soddisfazione mentre tu in un Arkham vedi un Total War e noi in un Ghost Recon vediamo Wildlands cazzo ma infatti o Rainbow Six Siege porca troia madonna che Rainbow Six Siege che madonna è un colpo al cuore quel gioco che eh lo so eh ma tanto eh tanto se Ubisoft continuano da così non lo vedrete mai più vi dico sono già questo che cos'hai condiviso qui no niente Tiny Glade è uscito ricordo che con la pistola quando trovavo la posizione perfetta che colpiva un sacco di insetti restavo immobile per fare il record quando prima avevo la braccia alle spalle che mi faceva malissimo pagare un cecchino madonna e che cos'era il duello che cos'era il duello tra cecchini quella cosa così come si chiamava quel film vabbè che si chiamano tutti sniper si chiamano tutti così voglio giocare me la sparo tutta ad ultra è lui a 30 vai a dormire c'è tempo per dormire ma non c'è tempo per giocare come diceva il mio professore quando morirò avrò tutto il tempo nel mondo ora mi gratto i coglioni comunque va bene vabbè dai ciao ciao buonanotte a tutti ragazzi ciao presentati con noi come al solito